Eccoci qua, mi pare che sia entrato anche l'ultimo dei protagonisti, si va! De Border, Hunter Berger, Dr. Stroll, Lady Becky e Luna Barchera, al termine della prima curva in vantaggio Filippide davanti a Mogli, Pastrocchio, Orami, Alpignano, Lorando, Ileni, Drandrago, Max Forever, Roero, Bar Socrate, Hunter Berger, De Border, Dr. Stroll, Luna Barchera e Lady Becky. Dopo mille metri di corsa prosegue in vantaggio Filippide davanti a Mogli, Pastrocchio, Orami, Alpignano, Drandrago, Lorando, Ileni, Max Forever, Roero. All'inizio della seconda curva in leggero vantaggio Filippide davanti a Mogli, Orami, Pastrocchio, Alpignano, Drandrago, Lorando, Ileni, Bar Socrate, Roero. Poco prima dell'ingresso addirittura in vantaggio Filippide davanti a Mogli, Alpignano e Orami. I cavalli entrano in dirittura con Filippide in leggero vantaggio lungo la corda, attaccata all'esterno da Alpignano, a centro pista Drandrago e Max Forever. Seguono Orami, Antberger, Mogli e in leggero vantaggio Drandrago attaccata all'esterno da Max Forever. Seguono Antberger, Alpignano e Lady Becky e in leggero vantaggio Max Forever. Davanti a Antberger, Drandrago e Lady Becky resiste Max Forever. Davanti a Antberger, Drandrago e Lady Becky. 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 Grazie a tutti